Lo sportello del cittadino si trova a Taranto, precisamente in via Otranto, in questa linguetta di strada che congiunge in buona sostanza via Principe Amedeo e appunto la traversa con poi l'inizio, l'imbocco di via Cesare Battisti all'altezza di piazza Ramellini. Da parecchio tempo vi stiamo segnalando quelle che sono le strade più ammalorate, più disgraziate dovremmo dire, ma lo scopo non è quello di gettare la croce addosso a nessuno per l'amor del cielo perché le strade sono tante, i lavori in città si stanno facendo e quindi per carità nulla da eccepire, però per cortesia cerchiamo anche, mi rivolgo all'amministrazione comunale, di fare una priorità negli interventi andando ad intervenire in maniera rapida in quelle strade che davvero ha bisogno di iniziative immediate perché è a rischio la pubblica incolumità, si cade, si cade, si cade, poi il cittadino si fa male, va in ospedale, riporta dei danni e chiede il risarcimento dei danni all'amministrazione comunale ed è un peccato perché poi a pagare, quando paga l'amministrazione siamo noi contribuenti a pagare. Qui in questa strada sono stati fatti rappezzi su rappezzi, sono stati fatti evidentemente dei lavori da parte di utenze private ed è diventato un vero percorso di guerra, tanto più che in molte parti, vedete, non è stato neanche ripristinato il manto stradale, è rimasto il cemento, il cemento poi si è polverizzato e abbiamo polvere, abbiamo, guardate, tutto sterrato quasi, guardate qui anche proseguendo perché le ditte fanno i lavori e poi vanno via e qui il problema grosso è a mio avviso che gli uffici tecnici dei lavori pubblici dovrebbero fare dei controlli continui perché guardate qui, guardate, le immagini penso che siano più eloquenti di ogni mio commento, non si può andare via, rompere, mettere un po' di cemento, alla meno peggio, laddove siamo fortunati, un po' di asfalto e poi abbiamo un territorio, abbiamo un percorso, un manto stradale, gobbe, gobbe, guardate qui addirittura qui è venuto meno ovviamente il cemento, qui è puro cemento, asfalto non è stato messo proprio, cemento, da anni, da anni, guardate anche qui quest'altra traversa appunto nelle vicinanze di sempre via Otrato, guardate qui sembra Bagdad sotto i bombardamenti degli anni 90, è un quadro penoso, io dico si stanno rifacendo le strade, ben venga, però creiamo una priorità e qui stiamo parlando di una situazione emergenziale, non so più quante sono le segnalazioni cittadini che purtroppo finirò anche per scontentare alcuni cittadini rispetto ad altri, perché ovviamente sono tante le segnalazioni, l'ho detto in altri servizi, nessuno ha la bacchetta magica, io non pretendo la bacchetta magica dall'amministrazione comunale, però viva Dio, guardate qui questa buca che si crea e pensiamo, mi diceva un signore che è caduto una persona, qua non si può camminare proprio per niente, perché ci sono persone che camminano davanti e dietro, è una cosa pazzesca propria, soprattutto gli anziani, come? Dico soprattutto gli anziani, come persone per sorelle, ciao, come persone per bene, non si può camminare proprio, è una cosa pazzesca, comunque hanno deciso di fare qualche cosa per questo appartamento qua. Vedete, qui diceva il signore, non è che ci siamo messi d'accordo, guardate come si cade, ma è tutto, qui proprio le ditte che fanno i lavori, guardate proprio l'asfalto, non sanno che cosa sia, si sono limitati ad una penosa e vergognosa gettata di cemento e poi, come si suol dire, chi si è visto, si è visto. Ecco, qui giustamente altri cittadini dicono, prego. Non si può camminare per la strada, perché sporcono, buttano carte, i cani che fanno i loro i loro. No, ma parlavamo non solo delle carte, parlavamo proprio della strada rappezzata, rotta, delle buche. Non ne parliamo proprio. Le rappezzature che hanno fatto, che è uno in giallo. Ma le rappezzate pure male. Guardate la gamba come ce l'ho io, con la carta. Guarda. È incredibile, è incredibile. Guarda, la comune non c'erano soldi. Ma di cazzo, scusate. Va bene. Cerchiamo di fare il possibile. Sono 15 giorni che non vengono a scappare la strada. Ora qui stiamo parlando di lavori pubblici. Tanti problemi. Però, è che io dico, nessuno ha la bacchetta magica. Però, almeno in questi casi grossi, interveniamo. Hanno fatto i lavori. Ma così si mette la scatrana. Tutto sul mondo. Io non lo so. Lo spessore che è tanto. Dal livello della strada allo spessore della... Non ne parliamo poi per i disabili, i problemi che ci sono. Le carrozzelle non possono passare. No, no, no. Bene. Grazie. Vedete, lo scopo di questa trasmissione, di questa serie, è quella di dare voce al cittadino, dare voce a chi non ha voce, al cittadino che paga le tasse, al cittadino che cade. Noi cerchiamo solo di essere degli amplificatori perché amiamo questa città e vogliamo metterla in sicurezza. Tutto qui.